Buongiorno a tutti, desidero salutare e ringraziare il Ministro Rocella per aver voluto promuovere questa iniziativa e ovviamente tutti i rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro che hanno accolto l'invito del Governo sono presenti oggi al Tempio di Adriano per sottoscrivere un documento che io considero di grande importanza, una vera e propria alleanza tra istituzioni e aziende per un'impresa a misura di mamma e a misura di bambino. Futuro e investimento sono le parole chiave di questo patto, nessuno, meglio delle nostre aziende sa quanto sia importante fare investimenti produttivi e quanto sia importante scommettere sul domani, nessuno più di questo Governo crede che l'investimento nella natalità per invertire il trend demografico voglia dire scommettere su noi stessi, perché senza figli avremo un'Italia più povera, sarà a rischio la sostenibilità del nostro welfare, verrà meno quella staffetta generazionale sulla quale si fonda la capacità di portare nel futuro la nostra identità di popolo. Noi abbiamo davanti una sfida importante e ovviamente ne siamo consapevoli, la denatalità affligge tutta l'Europa e non solo, e in Italia un certo clima culturale ha contribuito a spingere giù la curva demografica. Per decenni c'è stata molta disattenzione nei confronti della famiglia e mentre altrove si correva ai ripari, da noi parlare di sostegno alla natalità sembrava quasi essere un tabù. Ecco noi abbiamo infranto quel tabù, abbiamo messo la famiglia e la natalità al centro dell'agenda di Governo, lo abbiamo fatto nonostante le poche risorse che avevamo a disposizione, con questa legge di bilancio, con quella precedente abbiamo messo in campo un pacchetto di provvedimenti che vale complessivamente oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Chiaramente non è sufficiente, lo sappiamo bene, però la direzione tracciata è chiara e disegna una visione. Siamo anche consapevoli però che il Governo da solo non può farcela, che serve l'aiuto di tutti a partire da chi come voi si rimbocca le maniche ogni giorno per creare posti di lavoro, per produrre ricchezza e benessere per la propria nazione. Oggi il Governo vi propone di sottoscrivere un patto perché la sfida demografica coinvolge tutti e ha bisogno di tutti. È una sfida per il futuro dell'Italia, è una sfida per la libertà, in particolare delle donne, perché purtroppo sono ancora troppe le donne costrette a dimettersi dal lavoro dopo essere diventate mamme, sono ancora troppe le mamme lavoratrici che vedono il proprio percorso di carriera ostacolato da un sistema che non riconosce il valore di quello che fanno. Sono ancora troppe le donne che rinunciano a mettere al mondo un bambino perché vivono questa scelta come una scelta alternativa alla realizzazione professionale e noi non possiamo permettere tutto questo. Allora dobbiamo perseguire tutti insieme con forza e determinazione l'obiettivo di costruire una cultura e un'organizzazione del lavoro che non consideri la genitorialità come una penalità ma che anzi accompagni e valorizzi l'esperienza di diventare padre o di diventare madre. Anche su questo il Governo ha iniziato a muovere i suoi passi dal potenziamento del congetto parentale fino alla decontribuzione per le mamme lavoratrici, però io sono convinta che insieme tutti noi possiamo fare la differenza molto di più. Dobbiamo promuovere una nuova consapevolezza anche culturale, mettere in rete quelle tante buone pratiche che dove ci sono aumentano la produttività delle realtà nelle quali si realizzano, migliorano il benessere delle persone, fanno crescere la natalità. La denatalità e la mancanza di libertà sono in fondo due facce della decrescita e la decrescita che che ne dica qualcuno non è mai felice. Noi vogliamo che l'Italia cresca, che cresca la libertà dei suoi cittadini, il benessere dei suoi lavoratori, il suo tessuto produttivo. Un'impresa a misura di mamma e di bambino può essere una chiave di volta per affrontare tutti insieme questa sfida. Quindi grazie ancora a tutti e buon lavoro per questa importante giornata.